Rigidismo, buonismo, mancanza di trasparenza, le tre cose che vanno a evitare non solo nell'educare la felicità, ma nell'educazione in genere. Ma c'è ancora un altro nemico della felicità e dello stesso cammino educativo, cioè l'irresponsabilità. E fatemi dire quel che penso. Credo che oggi l'irresponsabilità è diffusissima, fa parte proprio, direi, della vita, perché un po' tutto ci spinge ad essere irresponsabili. L'irresponsabilità significa non tanto non dar peso ai miei doveri, a quello che devo fare, a quello che mi spetta fare, ma soprattutto non dar peso agli altri, ai bisogni degli altri, ai doveri degli altri, non dar peso alla dignità dell'altro. Essere irresponsabili vuol dire essere immaturi, sia come cittadini, ma anche come cristiani, anche come consacrati, come religiosi, come religiose, come preti, come suore, come vescovi, come diaconi, eccetera, eccetera. L'irresponsabilità è un modo di vivere il proprio egoismo, è un modo di rinchiudersi e di fuggire dalla vita e dalla realtà. E vedete che la prima cosa per essere felici è proprio quella di conoscere e amare, con tutti i difetti, i luoghi della propria vita, la propria vita e la propria storia, con le gioie, con i dolori, con le speranze, con le fatiche, amare la realtà così com'è. E dicevo che oggi questa irresponsabilità è diffusa perché è lo stile di vita che ci viene presentato, che ci viene propinato, che ci viene quasi imposto a renderci uomini e donne passivi, non protagonisti della vita. La felicità vera sta non nel fuggire la vita, ma nel farmi, nel rendermi protagonista della vita nel momento in cui io scopro la fatica di questa vita. Dinanzi ai problemi, dinanzi alle paure, dinanzi alle fatiche, cosa bisogna fare? Tanto tempo fa dicevo che i giovani andavano educati a leggere, a cogliere le difficoltà e poi a farle proprie per poterle affrontare. Oggi devo rettificare quello che dicevo, e cioè oggi dovrei dire che gli adulti, molti adulti, certamente non tutti, grazie a Dio, vanno educati ad affrontare i problemi, vanno educati ad affrontare le difficoltà, perché gli adulti di oggi sono i giovani di ieri che non sono stati educati a leggere la vita, ad affrontare la vita con le proprie difficoltà e ad amarla. Vi aspetto domani, PariPiTV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS